Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre il video iscrivetevi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche il mio bottega per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare le recensioni Lidl, edito dalla Ikari, prezzo 7,50€. E' una miniserie Giusei, di tre volumi, Giusei, manga che sono stati pubblicati su riviste per donne adulte, questo dire Giusei. E infatti, leggendolo ho notato che non era nelle mie corde qualcosa di particolare, ecco. Siamo nei giorni nostri dove abbiamo Vladimir, uno dei due protagonisti, e suo migliore amico Hag. Questo suo migliore amico fa dei sogni molto particolari, dei sogni ricorrenti. Sogna un cottage, una casa vecchia, un stampo con una veranda, continua a sognare questo sogno, e a un certo punto compare una bambina che gli dirà di chiamarsi Lidl, e gli farà capire che è più o meno fine 1800 l'anno di questo sogno. Questi sogni continuano a ripetersi fino a che, in un certo punto, adesso si vedrà come se fosse lui un fantasma, anzi il bambino chiamerà proprio il signor fantasma. E quindi vedremo intrecciarsi la vita quotidiana dei due Vladimir e Hag con questi sogni ricorrenti, e accorgersi che non è l'unica persona che ha queste esperienze, ecco. E a un certo punto nasce il desiderio di capire questi sogni, questa esigenza, e soprattutto che questa casa esista davvero nella realtà, e non è solo un sogno, e cercare di ricorregare il tutto. Allora, è molto onirico, infatti, come manga, anche il finale è un po' sfumato, cioè ha un contorno non del tutto definito, soprattutto il finale. Non è che è difficile l'interpretazione, è difficile capire. Ognuno ci vede ciò che vuole, secondo me, nel finale. È un finale abbastanza particolare, aperto, che probabilmente chiunque stessi lettore lo può intendere alla sua maniera, almeno secondo me. Allora, è un manga carino, ecco nel senso, la miniserie, ripeto, forse, essendo Giusei, non è molto nelle mie corde, e quindi, magari una donna, una ragazza, è più facile che lo capisca, però carino, ecco, nel senso, era per comprare qualcosa di Giusei, visto che tra l'altro è una miniserie a tre volumi, quindi si fa in fretta. Ecco, è particolare, è molto filosofico sotto certi aspetti, molto spirituale, anche come manga. È un viaggio non solo nel sogno, ma nella realtà la ricerca probabilmente di se stessi, è di un passato che neanche conosciamo, ma che non ci lascia, oppure non vogliamo ricordare, quindi probabilmente pieno di metafore, un viaggio interiore, oltre che nel sogno carino, ecco, non ho grossi spunti di riflessione proprio per il fatto che non è troppo nelle mie corde, quindi io l'ho letto, ovviamente, non è noioso, non è banale, però ecco, ha un modo, come va avanti alla storia, molto leggero, molto tranquillo, molto calmo, non ha azione, non ha colpi di testa, o scene di lotta, è più un dialogo con vari personaggi, e capire se stessi, capire questo sogno, e chi è questa bambina, in effetti, se davvero si è esistita in quegli anni, se questa casa c'è ancora, e quindi è un viaggio, la ricerca della verità, e di capire perché ci sono questi sogni, un po' come in Proteggi la mia terra, probabilmente qualche spunto l'ha preso, la Proteggi la mia terra, disegni, Jusei, stile particolare, non è uno stile shonen, che magari siete abituati, non è neanche uno stile shoujo, è uno stile abbastanza, realistico, se vogliamo dire, comunque molto particolare, io vi ringrazio, se il video è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, noi ci vediamo ai prossimi video,